Allora, innanzitutto voglio cogliere l'occasione per dedicare la vittoria a una nostra compagna Giussi che in questo momento sta attraversando un periodo non semplice. Le ragazze hanno anche giocato per lei, hanno fatto una partita importante dall'inizio alla fine. Abbiamo messo in pratica quello che abbiamo provato negli allenamenti. Nonostante anche le varie defezioni, comunque siamo rimasti in partita. Abbiamo dominato, abbiamo sofferto poco. Penso che sia un risultato abbastanza giusto. Sì, mi accodo a quello detto da mister Giacomo e sì, volevamo la vittoria come ultima in casa. I complimenti vanno alle ragazze che dal primo al novantesimo sono state in partita concentrate. Quindi hanno messo in pratica tutto quello che di buono abbiamo fatto in questo primo anno. Io ho sottolineato soprattutto in fase di telecronaca la qualità offensiva di questa squadra con le quattro giocatrici avanti che davvero hanno dato il meglio di loro, pericolosissime sempre sulle fasce. Poi con Cennamo che da praticamente tutti i palloni passavano tra i suoi piedi e si è visto una bellissima trama offensiva. Sì, hai detto bene. Loro quattro soprattutto, comunque hanno dal loro lato esperienza in più. Forse mira il primo anno, però qualitativamente, fisicamente, la ragazza è forte, può ancora migliorare. Cennamo, è inutile dirlo, è il capitano, quella con più esperienza che fa girare bene la squadra. Senza lei quest'anno abbiamo sofferto, fortunatamente oggi c'era e si è visto la differenza. Ma come prima esperienza è stata abbastanza importante per tutti, per l'esperienza che abbiamo fatto. Colgo l'occasione perché voglio ringraziare chi c'è dietro a tutto questo, a partire dalla DG Emanuela Mazzella che ha creduto nel progetto, al nostro dirigente e accompagnatore Carlo, a chi lavora insieme a noi, Cristian Pasquale e soprattutto poi alle ragazze perché hanno creduto, hanno lavorato, ci hanno seguito e siamo migliorati tutti insieme. E mi auguro che questo sia un piccolo passo per il futuro perché è importante avere un movimento femminile sull'isola e dobbiamo continuare a crescere, a migliorare insieme perché poi le soddisfazioni pian piano con la perseveranza arrivano. Sì, niente, concludo anche io dicendo che complimenti comunque vanno alle ragazze perché veramente partire senza una preparazione, senza sapere in 8, in 9 e poi arrivare a fine campionato in questa maniera i complimenti vanno a loro.